Un tavolo con diverse figure istituzionali per avviare un confronto su possibili iniziative da intraprendere per la tutela del fiume Sele. Si è tenuto ieri pomeriggio in Consiglio regionale a Napoli. Da tempo i residenti dei comuni interessati dal passaggio del fiume segnalano la presenza di schiume e melma accompagnata da cattivo odore. Siamo ancora in attesa che la giunta regionale risponda alla nostra interrogazione, ha dichiarato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano. Il governatore De Luca e il suo vice, assessore all'ambiente Bonavitacola, non possono mostrarsi ancora indifferenti al cospetto del disastro ambientale che incombe. La regione ha il dovere di intensificare i controlli e indagini per risalire alle cause dell'inquinamento e all'individuazione dei responsabili, scrive ancora in una nota il Movimento 5 Stelle. Nonostante gli sforzi profusi dalle forze dell'ordine nel monitoraggio ambientale del bacino del Sele, continua a persistere un elevato rischio di contaminazione delle acque, come testimoniato direttamente dal Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, a margine di un sopralluogo effettuato nei giorni scorsi. Questa esigenza di creare un tavolo di lavoro nasce alla luce di varie segnalazioni su sversamenti illegali. Inquinare il fiume e di conseguenza il mare in cui sfocia ha effetti devastanti sulla salute, sull'ecosistema e sull'economia di una regione che vive di turismo e bandiere blu. Ma rischia di diventare, a parte una bomba ecologica, anche un segno dell'incapacità della politica di risolvere un problema. Ma questo perché? Perché ci sono un'infinità di enti che praticamente devono in qualche modo controllare, vigilare sul fiume e questo comporta disorganizzazione totale. Quindi lo scopo dell'incontro di oggi è quello di mettere a un tavolo tutti quanti gli enti preposti e farli dialogare tra di loro per capire chi deve fare cosa e in che tempi bisogna fare questa cosa. Il frutto sarà una relazione che invieremo al nostro Ministro costa affinché anche da lì dal Ministero possa capire in che spazi si possa muovere per le proprie competenze e che aiuto possa dare agli enti inferiore per poter in qualche modo risolvere questo problema. Si parla di task force, si parla di ulteriori controlli, i droni, c'è tutto quello che si può fare, lo metteremo in campo facendo, io credo, filiera politica con tutte le forze politiche. Il Sele non ha un colore politico né rosso, né giallo, né verde né azzurro, è del colore che deve essere, quello naturale e noi dobbiamo cercare di riportarlo agli antichi fassi di una volta e questo conseguirà anche sul mare che vi posso assicurare nei tempi belli del Sele il mare cristallino. Tra l'altro si è già usciti, voglio dire, un po' dalla mentalità che il fiume sia in genere uno sversatoio per tutti. Si è capito finalmente quando parliamo di ambiente, non parliamo solo di ambiente fine a se stesso, non parliamo di salute dei cittadini ma parliamo soprattutto di economia perché su quel litorale gravitano comuni con i loro lidi, i loro alberghi, con il loro flusso turistico costante durante tutto quanto l'arco dell'anno e noi non possiamo permettere che la reputazione venga guastata di un territorio intero, venga guastata da pochi delinquenti che sversano oppure che gestiscono male magari a volte gli impianti di depurazione.